Siamo tornati con i minigames di minecraft e quest'oggi solo ed esclusivamente per voi proveremo un nuovo gioco Che ho già fatto in passato un paio di volte non troppo seriamente che si chiama murder mystery Dobbiamo scoprire chi è l'assassino all'interno della partita, potremmo essere anche noi Ragazzi mi raccomando se volete altri appuntamenti di questo minigames Spolliciate più non posso, commentate, iscrivetevi alla campanellina Io vi auguro una buona visione Bene ragazzi, questo è più e bentornati con questo nuovissimo video di minecraft minigames Eccoci qua nella lobby, ci sono 300 giocatori in queue, quindi andiamo immediatamente a partecipare anche noi al minigioco Ci sono due modalità, in team o in solo Un assassino, un detective e 14 innocenti Ci piace? Dai proviamo questa Per adesso sono un innocente, quindi devo cercare di sopravvivere più a lungo possibile Ciao amico Che succede quindi quando sei un innocente? Non puoi fare niente essenzialmente Non puoi manco combattere contro qualcuno Vorrà dire che staremo qua a Zonzo a non fare un bel nulla C'è la minimappa, fammela vedere Non serve a granché in realtà la minimappa perché non si vede nulla Oh ma è morto uno qua davanti, ma è stato lui Ragazzi l'ho visto, è stato lui È lui l'assassino È questo qua, aiuto, 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 aiuto Raga questo tipo è l'assassino L'ho visto che uccideva due persone Non far finta di nulla Forse erano statue con degli scherzi Ok non c'entra niente Eh? You win? The murder has been stopped Ma sta modalità è bellissima Non ho fatto niente e ho vinto Capisco perché me l'avete consigliata Perché almeno qua non dobbiamo impazzire Vinciamo da soli Ovviamente immagino che ci divertiremo ancora di più Se dovessimo essere noi degli assassini Basta Ma non voglio essere una cavia Un manichino pronto ad essere fatto fuori Caspita è sta roba Ma dove sono finito? Ma sono caduto di sotto Sei tu l'assassino? No non sembra Sei tu l'assassino? Qualcuno di voi è l'assassino E io lo so C'è anche un detective E se morre il detective che succede raga? In teoria se l'assassino uccide il detective Perde l'assassino o perde il detective? Nel senso il detective deve scoprire l'assassino Prima che provi ad ucciderlo O anche mentre lo uccide può già scoprire Non lo so E' complicata la situazione Però secondo me se l'assassino uccide il detective Vince l'assassino Ma basta Ma basta Oh 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 Non ho fatto niente io Calmi No A player killed you? You died? Che significa? Ho perso la partita Perché un giocatore Pensava io fossi l'assassino E mi ha ammazzato Non ha minimamente senso questa cosa Innocenti che ammazzano Altri innocenti Ma che cos'è? Altro che il true detective Ragazzi Se adesso L'assassino muore Abbiamo vinto lo stesso Infatti Let's go Deve essere veramente difficile Fare l'assassino La cosa bella è che le partite Partono in continuazione Quindi non ci si ferma Praticamente mai Uh il parkour Devo riuscirci Se riesci a fare il parkour Ti butti sugli slime E arrivi in un'altra zona Parkourizziamo alla grande Dovrei farcela Che spettacolo Arrivi fuori Tutto carino Tutto divertente Ma non voglio più fare l'innocente Voglio essere io l'assassino Che caspita Oggi su minecraft Esploriamo le mappe Dei minigiochi Come potete vedere Qua dentro Si entra in una cucina Abbiamo delle torte A disposizione La testa di uno scheletro Trasformata in un vasetto E una cesta Assolutamente vuota Qua dentro abbiamo una cascata Al centro della stanza Perché possiamo permettercelo Siamo ricchi sfondati All'interno di questi Minecraft minigames E come potete vedere Sopra abbiamo addirittura Le campane Ma è una ruota panoramica Ma come ho fatto A scambiarla per una campana Press button to release Attacks the murder Press button Vai 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 Liberalo Liberalo Hai bisogno di 4 oro Per usarlo Come li guadagno gli oro Ne ho uno solo In questo momento Ehi No ce n'era uno Lì me l'hanno rubato Qua ce n'è un altro No No La mia La mia Giusta Il mio cadavere Che cosa ho fatto di male Per meritarmi questo Ma la cinematica è fighissima E niente Questo ragazzo È i minigames di oggi Noi che stiamo sdraiati a terra Perché ci hanno appena fatto fuori Maledetti Maledetti Era una giornata tranquilla In quel di Minecraft Ipixel Quando oggi I nostri operatori Hanno trovato un cadavere E sulla scena del crimine Hanno scritto anche Stepney Fai schifo Si pensa che sia Lo stati Gli haters Come potete Ben notare La salva è ancora a terra Sembra che muova le braccia Ma in realtà è morta Ragazzi Per questa scena Ho perso Tre quinti di gola Vergognati Sta ammazzando tutti Sta trucidando chiunque Ragazzi Adesso va in cucina Va a prendere un altro cortello Guardatelo Allora Ammazzano tutti Attento Uccidilo Sì Abbiamo vinto Ah Sì Mi hanno vendicato E hanno rimasti solamente tre innocenti Abbiamo rischiato tantissimo L'assassino era stato molto bravo qua E ancora innocente Ho capito Però devi poter scegliere Se vuoi fare l'assassino Che diamine Cerchiamo perlomeno di sopravvivere ragazzi Che ne dite? Cerchiamo di non farci far fuori subito Invece che murder mystery Mi sembra diventata chiappino qui The detective has been killed Ok Abbiamo scoperto Che cosa succede allora L'arco del detective Creato nel 2017 Cos'è? Un museo? Va bene che è un museo Ma io come lo uccido L'assassino Scusate Oh L'arco L'arco raga Fermi tutti Abbiamo vinto Eh vabbè Ma non ho fatto niente Raga Ma non faccio mai niente Ma che noia Se non volete farmi fare l'assassino Mi accontento sinceramente Anche di essere un detective Non mi basta non essere una pedina Completamente inutile All'interno di questo gioco Per piacere Io gioco ai mini games E per divertirmi E per giocare No per non fare nulla Figa sta mappa Guardate raga Sono salito sulla funivia Chiappe sulla funivia Voglio farla nella mia serie Ma non credo si possa Il nostro obiettivo ragazzi È trovare loro Oh Ma no ma c'aveva la spada Sei un delinquente No dai Sta salendo sulla funivia Con la spada Questo ammazza tutti Io so la tua vera identità Inutile che scappi Tutto il mondo Saprà di te Guarda guarda Il tipo ha raccolto l'arco Lo segue per andare a ucciderlo Vergognati L'ha mancato L'ha mancato No V per vendetta Ma cosa mi combini L'assassino ne ammazza uno Ne ammazza un altro Ne ammazza tutti Raga Attenti No non ci credo che vince Li sto uccidendo tutti quanti Abbiamo vinto Ma com'è possibile Con cosa lo hanno ucciso Se l'arco era qua sotto Ma non mi viene ucciso Ma mentre stavo andando A prendere qualcosa Abbiamo vinto però Sono l'unico cadavere Della partita Con tutti che ballonsolano Finalmente ragazzi Sono il detective Devo trovare E uccidere L'assassino Quanto sono potente Nel mio ufficio privato Lei per caso è l'assassino? No perché io sono il detective Come dici Non dovevo dirtelo Ma io sono il detective Quindi dobbiamo collaborare E lavorare insieme Finalmente Posso fare qualcosa? Calmi eh Sento qualcuno che mi segue Non ti provare No No E no Ok Sono il detective Lasciami in pace Se uccido un innocente Muoio automaticamente anche io Sono l'unica persona Che può sistemare le cose Oh Oh È lui È lui raga È lui È lui Sì Mi sono girato E ha ucciso il mio compagno Poverino La tua morte Non è stata inutile Ti ho salvato la vita Piccoletto Cioè in realtà Non ti ho salvato la vita Ti ho reso gloria E onore Devo ammettere che non è così male questo minigioco Però ovviamente se sei l'assassino Ti diverti leggermente di più Flash Live Ciao belli Stai scherzando? C'era la sezione apposta per fare l'assassino? Ma non ci posso credere Ma non è la mia skin questa Ma cosa mi è successo? Sono l'assassino Devo uccidere i miei bersagli Come si fa? Devo stare molto attento raga Questo qui? Morto Oh Cosa? Eh? Non è morto E sono stato ucciso Ma non ha senso Credo di non aver capito bene come funziona Voglio solo fare questa modalità Essendo l'assassino Voglio uccidervi tutti quanti E ovviamente chi potevamo essere Se non gli innocenti Che noia Che barba Che barba Che noia Ma dai Non posso fare nulla in questa modalità Ah è sempre la mappa con la funivia Lasciatevi stare Bisogna aspettare E sperare Che muoia il tipo Uh posso comprare una pala Dig snow Possiamo raccogliere la neve Giusto? Oh Ma dai Ma che due zippe Ma siamo un botto di persone Devi venire a uccidere me Guarda quanti siamo in partita Cioè rendetevi conto Questo tipo deve ammazzar me Per forza Sono la vittima preferita dal 1988 È incredibile Finalmente Raga Siamo gli assassini Dobbiamo uccidere tutti quanti i giocatori Quindi adesso non mi devo più preoccupare di qualcuno che cerca di uccidere me Ma devo essere io a uccidere gli altri Right click to throw your sword E intanto muori così E basta Raga finalmente ci divertiamo Questo tizio sta scappando Ehi la E facciamo finta di niente raga eh Dobbiamo essere praticamente immobili Non dobbiamo farci sgamare Questo tizio qua è un clown della morte Dobbiamo ucciderlo Mi sa che qualcuno è entrato qua dentro Se qualcuno è entrato qua dentro Possiamo andare ad ucciderlo Senza troppi problemi Mi raccomando ste non sono concessi errori Muori Muori Non uccisi due Non uccisi due Zitto 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 Ah che bello Sono troppo forte Cosa? Costruire un ponte costa due oro Oh Mi hanno tirato una freccia tipo Aiuto Aiuto Muori Codo tantissimo Ha fatto fuori Controlliamo tutti i cunicoli Con calma Posso mettere la mappa? Ok Così posso vedere Alcuni sono di là Uno è qua Uno è qua Lo ammazzo subito raga Boom Stabato E lasciato a terra Oh 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 No Mi ha capito Mi ha scoperto Disastro nucleare An amato Bene amici Devo dirvi che questa modalità è veramente carina Grazie per avermela consigliata Ricordavo ovviamente di averla già provata Però se ti capita l'innocente Non ti diverti molto L'assassino invece è davvero molto figo Se volete altri appuntamenti mi raccomando Spollinata io non posso Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina Vi ringrazio di aver visto il video Vi saluto Buonui I dagli e che ridicchio Con sto microfono Ma mannaggia Ora capisco perché non lo usavo Torna tutto Torna tutto Torna tutto